Grazie a tutti coloro che ci stanno ascoltando, porgo alle famiglie gli auguri più belli, che i doni del Signore Risorto, che sono la Sua pace e il Suo Santo Spirito, possano effondersi su tutti coloro che vivono questo momento della storia. Ho mandato qualche giorno fa, e sarà pubblicato e distribuito anche nelle cattedrali, cattedrali, nella concattedrale di Albenche, di Imperia, il messaggio come ogni anno del Vescovo di auguri per la Santa Pasqua. E sono partito questa volta da un evento astronomico che sicuramente avete ascoltato. È l'evento tra il 20 e il 21 marzo, in questa notte, c'è stata una superluna, l'avete sentita? Una luna piena, la luna che ha raggiunto il Perigeo, il punto più vicino alla Terra, nell'orbita lunare. E quindi è risultata particolarmente visibile, luminosa, raggiante. E io ho intitolato il messaggio La Chiesa Raggiante. Perché non è un caso questa cosa, perché i padri della Chiesa, i primi scrittori cristiani, avevano utilizzato la luna come simbolo della Chiesa. Misterium lune, il mistero della luna. Perché la luna non vive di luce propria, ma di luce del sole. Quindi la Chiesa, analogamente, non vive di luce propria, ma della luce del suo Signore risorto. E allora è così. Mi è sembrato uno spunto simpatico, bello, ma anche molto efficace, mi avviso, per dire che siamo invitati a vedere il volto raggiante della Chiesa. Tempi complessi, difficili. Della Chiesa se ne dicono tante. E spesso si tende a mettere in evidenza gli aspetti umani meno gradevoli, meno belli. E allora ecco, in questa Pasqua di Ressurrezione del 2019, mi è piaciuto mettere in evidenza il cuore bello della Chiesa. Questa Chiesa raggiante, perché è vivificata dal Signore risorto. E guardando a questa Chiesa raggiante, traiamo anche un incoraggiamento, perché ci dice che il Signore risorto vive in mezzo a noi, è colui che ci accompagna, che accompagna la nostra diocesi, le nostre famiglie, le nostre realtà, che siamo compenetrati dalla luce del suo sole e fa sì che ogni uomo questa luce possa compiere scelte buone, scelte giuste per la nostra vita sociale, la nostra vita familiare. E allora ecco, a tutti voi, soprattutto a coloro che sono avvolti da un po' di mestizia, dai nostri ammalati, dai nostri anziani, non si scoraggi, nessuno si scoraggi. Nemmeno chi vive la precarietà del lavoro. In questo periodo nel nostro territorio abbiamo problematiche serie, con la Piaggio, con l'Aer, confidiamo e preghiamo intensamente perché queste situazioni possano essere risolte, perché dietro ci sono famiglie in sofferenza. Bene, nessuno si scoraggi. Il Signore opera, il Signore vive, il Signore è attivo. Certo, chiede la nostra collaborazione, bisogna che chi ha competenza si dia da fare, che si impegni. Nessuno, cioè, viva la mestizia e la depressione ecclesiale o della vita, ecco, ma possiamo essere tutti incoraggiati dalla bellezza del Cristo risorto. I miei auguri più belli a tutti, ai giovani, alle famiglie, agli ammalati, agli anziani, a chi vive la precarietà del lavoro, possa questa Pasqua del Signore, alla luce raggiante del Cristo risorto, darci un senso di speranza e di fiducia nel futuro.